Adesso cari napolitanini, poi raccogliete tutte le carte e tutte le stagnole. March! Altrimenti io vi schifo e vi odio tutti. Ne andiamo a portare lì, nel cestino della carta a straccia. Allora siamo d'accordo, per le vacanze di Pasqua tutta la classe mi deve fare un tema scelta sulle parabole. Perchè non ne fai una anche tu?